Cosa è Metcruise? Metcruise è l'associazione di porti croceristici più grandi del mondo. Di fatti rappresentiamo 152 porti e 55 associate members sempre legati al mondo delle crociere. Siamo presenti dal vicino atlantico fino al Mar Rosso, distribuiti in 22 paesi. Un'associazione che vuole fare del lobby, vuole riunire, unificare la voce dei porti croceristici affinché possiamo trattare temi così importanti come i temi della sostenibilità di fronte ai governi regionali, ai governi nazionali ma anche per esempio organizzazioni suprastatali come l'Unione Europea. L'MSC Fantasia parte in un corso che ha l'obiettivo di attirare proprio l'attenzione sui temi della circolarità, del risparmio energetico e dell'economia circolare. Effettivamente, noi con Metcruise sempre offriamo ai nostri delegati un corso di formazione e questa volta grazie alla valiosissima collaborazione con MSC possiamo stare oggi a bordo dell'MSC Fantasia, Sbarcando dopo a Napoli e grazie a questa collaborazione possiamo proprio entrare e con tecnici altamente specializzati vedere cos'è questo mondo dell'efficienza a bordo, delle emissioni, delle acque eccetera. Possiamo presentare un pochino il corso, cioè a chi è dedicato, quanto dura, insomma tutte le caratteristiche. Il corso va dedicato ai associati di Metcruise, saranno 42 persone di 26 porti che oggi salgono a bordo e noi nell'associazione Metcruise siamo molto diversi, c'è chi si occupa delle operazioni, chi si occupa del marketing eccetera, non sempre abbiamo questi conoscimenti così esaustivi per proprio parlare di questo tema così importante come la sostenibilità. Dunque Metcruise offre ai suoi associati un corso di formazione.